volevo fare un velocissimo videino sul sulle vendite delle auto elettriche e in particolar modo della della tesla della tesla perché appunto gli haters gli odiatori del marchio tesla e delle vetture elettriche continuano a dire che non se ne vendono che è un blef che le auto elettriche spariranno molto velocemente con la stessa velocità con la quale sono sono apparse spariranno e insomma sulle cose che si sentono dire tutti i giorni in realtà non è così sì se noi guardiamo l'italia che come al solito è un paese che rimane indietro con le nuove tecnologie un paese molto tradizionale molto conservatore quindi abbiamo tanti tanti sostenitori delle vecchie automobili che io ripeto non c'è niente di male quando si parla di vecchi automobili sono la storia ma è anche giusto che la tecnologia vada avanti che la tecnologia e che la mobilità attuale abbia un'evoluzione abbia un progresso non si può continuare a vivere ancorati nel passato a 30 anni fa 40 anni fa 50 anni fa bene sono un patrimonio di vetture che va conservato va portato avanti ma mantenuto ma è giusto che la tecnologia vada avanti e la mobilità attuale e odierna si si evolva però evidentemente non tutti la pensano così ci sono i conservatori ci sono i nostalgici che vogliono rimanere ancora con le macchine lo sappiamo analogiche a gasolio e che poi anche lì non ci sarebbe niente di male perché ognuno poi fa quello che vuole cioè voglio dire compra quello che vuole fa quello che vuole il problema è che proprio questi odiano le nuove tecnologie le nuove macchine facendone proprio una questione proprio una crociata una crociata questo tipo di mobilità di automobili e fra le varie offese denigrazioni varie e quant'altro c'è sempre anche dentro poi la le solite palle sulle macchine che non si vendono in italia di macchine elettriche se ne vendono ancora poche inutile nascondercelo però in realtà nel resto nel resto d'europa non è così e attenzione non solo nei paesi nordici quelli più su perché per esempio a me era capitato quest'estate di essere cos'era era agosto ero fermo al supercharger di affi a ricaricare mi ero fermato a fare un rabocchino 10 12 minuti e poi andavo per fare serata insomma sul sul lungolago dei garda eravamo tre macchine in ricarica allora lì ad affi ci sono praticamente 14 colonnile se non ricordo male c'erano tre macchine ricarica c'ero io poi c'era una una model s di tedeschi e una è un'altra model s di di una coppia di di olandesi no io quando sono i supercharger sono spesso olandesi tedeschi allora mi ha avvicinato questa coppia di olandesi e mi ha detto ah beh complimenti per la tua model 3 insomma siamo fatti un attimo di complimenti a vicenda e poi gli metto ma strano io sono venuto in italia insomma siete una patria famosa amanti delle belle macchine così mi aspettavo di trovare tesla dappertutto invece fa con mio grande dispiacere con mio grande rammarico di tesla in giro non ce ne sono fa noi siamo pieni ce ne sono ovunque in ogni angolo ormai sono macchine infatti è notizia anche di qualche settimana fa che l'olanda ha superato come vendite la norvegia parlo di tesla ovviamente e lui c'era rimasto male ma come mai e tra gli otto noi siamo indietro sai appunto siamo un paese di grande tradizione automobilistica qui molta gente ancora ancorata ai soliti marchi alfa fiat e quant'altro queste marche non hanno diciamo così valide alternative sul per quanto riguarda i prodotti elettrici e quindi la gente non compra le macchine elettriche sostanzialmente rimangono ancorati lì e anche quando gli fai prevede io mi è capitato anche un amico alfista di fargli provare la mia tesla è rimasto sbalordito delle prestazioni l'ha guidata per un intero pomeriggio glielo fatta proprio guidare gli è piaciuta tantissimo però poi la fine metto sì la macchina è bella delle prestazioni incredibili mi piace tanto ma sai a me piace l'alfa mi piace il rumore mi piace il cambio automatico io vado avanti con la mia giuglietta al di là della differenza di prezzo fra le due vetture questo fa un po capire diciamo così la mentalità un po chiusa un po non voglio dire retrograda ma insomma è quello che è però volevo dire le vendite di elettriche e nel dettaglio tesla nel resto d'europa non è come l'italia insomma le cose vanno molto bene e sto leggendo proprio qui su un blog auto elettrica 101 tesla consegni record nei paesi bassi questa è una notizia di qualche giorno fa e quindi volevo tirarci un po sul morale dicendo noi arriviamo sempre dopo in italia speriamo che questa ondata arrivi anche qua e con buona pace dei sostenitori delle vecchie macchine anni 70 e 80 i paesi bassi assieme alla norvegia sono sempre stati uno dei mercati migliori per le elettriche questo mese però le consegne hanno raggiunto un nuovo record in 15 giorni tesla ha consegnato 4589 model 3 con una media di 450 consegne al giorno il mese scorso erano già state consegnate 3900 model 3 e se le consegne continueranno con questo ritmo è probabile che tesla continuerà il trimestre con oltre 10.000 model 3 vendute nei soli paesi bassi un numero veramente eccezionale per un'azione per una nazione così piccola ecco al di là dei freddi numeri volevo semplicemente fare un videino veloce per tirarci un po sul morale dire va bene noi in italia ripeto viviamo in un ambiente automobilistico così un po particolare un po retrogrado però ci sono tanti e non solo quindi la norvegia la svezia ma e o anche l'olanda ma per esempio anche in germania le tesla si vendono molto bene si cominciano a vendere molto bene anche in francia in svizzera è in assoluto vabbè la svizzera grande come la lombardia ma c'è gente col grano ed è in assoluto una delle macchine più vendute se non addirittura la più venduta parlo della model 3 e quindi insomma tiriamoci un po sul morale vabbè speriamo che anche l'italia arrivi prima o poi a questi livelli o perlomeno ci tiri vicino viva le auto elettriche viva tesla lunga vita a iron mask grazie a tutti